Questa mattina, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Savona, è stata presentata la quindicesima edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus. Erano presenti Cesare Domini, della società di San Vincenzo de Paoli, diocesana, l'assessore alle politiche sociali Luigi Busselai e Gabriella Andraghetti, presidente del Banco Alimentare Liguria. Insieme hanno spiegato l'importanza e i contenuti di questa particolare giornata. Giornata in cui chiediamo a tutti quelli che entrano a fare la spesa nei supermercati che hanno aderito a questa iniziativa di fare la spesa per chi la spesa non se la può permettere. Quindi ognuno può comprare quello che desidera ma scegliendo tra gli alimenti che noi consigliamo. In Liguria in questo momento aiutiamo 403 strutture caritative e attraverso di queste sono circa 62.500 le persone e quando parlo di strutture caritative intendo mense per i senza dimora, parrocchie che aiutano attraverso i pacchi alimentari, gruppi di San Vincenzo, banchi di solidarietà o moltissime residenze che aiutano minori o anziani o persone con handicap. Grazie. 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 Grazie.